Si rindano a barracca Oh! Ma che mi ha fatto stamattina? Non mi ha fatto una guerra! Vuoi una guerra? Cadete tu? Si! E vieni conmigo! Faccio vedere io come si fanno! Si papà, bravo! Vieni qua! A poco prezzo! Vieni conmigo! Vieni conmigo! Vieni conmigo! Vai papà! A poco prezzo! Pesce! Anno 2009! 1617! 1617! Non mi interessa! Pesce! Mamma mia! Anno 2010! 3154! 1.200! Vieni qua! 2300 euro! Non mi interessa! 3.000 euro! CPL! Mamma mia! C4! Cambio automatico! 73! Papà! Vieni qua! Anno 2021! 9.750! Mamma mia! 2015! Si che sei? Oddio! Tu non è uscito questa macchina ora! Matizze! 1600! 1100! Matizze! 70.000 km! Che stai dicendo? 70.000? GPL! Mamma mia! 800 pezzi! 1600 euro! Mamma mia! puoi mettere staccai? ti faccio riuscita 6 piedi polo 2014 6500 120.000 km calma si la fa calma polo 2010 3500 anno 2011 1200 300 3500 mamma mia va 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 va